6 potenti rimedi naturali per sbarazzarsi della tonsillite in poche ore La tonsillite è una infiammazione delle tonsille, due linfonodi situati nella parte posteriore della gola. Le tonsille impediscono a molti microbi di entrare nel corpo, ed è per questo che possono infettarsi. 7 potenti. 8 potenti rimedi cumino per 15 minuti in 200 ml d'acqua, fino ad ottenere un liquido dal colore simile al caffè. Filtra e aggiungi 50 ml d'acqua e il cognac. Prendi un cucchiaio ogni 30 minuti. Se preso regolarmente, aiuta a rinforzare il sistema immunitario e ad alleviare i sintomi più comuni della tonsillite. Ricorda che il succo di limone deve essere fresco e appena spremuto. Miele. Ha incredibili proprietà antinfiammatorie, ed è per questo che è eccellente per trattare le infezioni della gola. Fai sciogliere 4 cucchiaini di miele in un bicchiere di acqua tiepida, e bevi due o tre volte al giorno. Curcuma. È un concentrato di composti con proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche. Ne basta un pizzico, in una tisana o un frullato, per godere dei suoi eccellenti benefici. Zenzero. La tisana allo zenzero è uno dei rimedi più efficaci contro la tonsillite, grazie alle proprietà antinfiammatorie dello zenzero. Bevi due o tre tisane al giorno. Può sembrare bizzarro, ma è un concentrato di proprietà antimicrobiche. Nonostante sia sgradevole da bere, è uno dei rimedi più efficaci contro la tonsillite. Grazie a tutti.